Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo detto nel video sui macronutrienti, ho deciso di farne uno anche sui micronutrienti, così avete idea di tutto quello di cui state mangiando, da cosa è composto. Ora, tutte le informazioni del video sui macronutrienti e di questo video le potete approfondire nel mio libro Come creare il tuo piano alimentare. Nel mio libro ho scritto tre anni fa, ho venduto ormai 5-6 mila copie, lo trovate in descrizione, comunque, ecco, se volete comprarlo lo trovate lì. Ora, il video non è sul vendervi il libro, ma è sui micronutrienti, quindi andiamo avanti. Ora, i micronutrienti li trovate essenzialmente divisi in tre macro categorie, no? Cosa divide i micro dai macro? I micronutrienti non danno energia, non forniscono kilocalorie, ok? Mentre i macronutrienti vi forniscono kilocalorie, micronutrienti non lo fanno. E sono divisi, come potete vedere dal mio super talento creativo e di disegno, in vitamine, sali minerali e chiaramente l'acqua, no? Ora, vi spiego un po' come si dividono, quali sono le varie classificazioni e dove potete trovarli. Allora, le vitamine si dividono in due categorie, le idrosolubili e le liposolubili. Per chi avesse fatto latino saprà che idroacqua lipograssi. Quindi, le idrosolubili significa che si sciolgono nell'acqua, mentre le liposolubili significa che si sciolgono nel grasso, ok? Ora, le idrosolubili sono la vitamina C, che è, credo, la vitamina più famosa, quella anche più pubblicizzata. Sicuramente, se vi dico vitamina C, vi viene in mente l'arancio e il frutto arancio, sia il colore che il frutto, anche se poi in realtà ci sono frutti che ne contengono molto e molto di più dell'arancio, però, vabbè, tutte le vitamine del gruppo B, B1, la B2, la B6, la B12, eccetera, e la vitamina H, che se non ricordo male, in realtà è comunque una vitamina B, ma viene chiamata anche vitamina H. Le liposolubili, invece, sono la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina F. Ora, cosa vi serve sapere, essenzialmente, delle vitamine? Primo, che le carenze possono provocare da dei semplici problemucci, come la pelle secca, le crosticini intorno alla bocca, tutte queste robe qui, a dei veri e propri scompensi. Ora, non vi dico fino alla morte, però sappiate che, perché adesso morire per carenza di vitamine non succede più nei paesi industrializzati, però sappiate che fino a 200-300 anni fa, quando si andava in esplorazione sulle navi, forse di più 500-600 anni fa, morivano quasi tutti per carenza di vitamina C, perché causa lo scorbuto e muori. Quindi, chiaramente, alla lunga sì, ci sono carenze vitaminiche che possono portare alla morte, però non è chiaramente una cosa che nel nostro mondo si verifica ormai più. Le vitamine, le loro funzioni sono un elenco infinito, cioè partecipano a migliaia di reazioni chimiche, di assorbimento, di produzione enzimatica, di assorbimento, scusate, di assorbimento sia dei nutrienti nel tratto digerente sia poi a livello cellulare, di produzione ormonale, insomma, salute degli occhi, della vista, del cuore, un po' lo sapete anche, no? Tante sono antiossidanti, fitonutrienti, aiutano il DNA a ripararsi, insomma, hanno davvero tantissime funzioni, quindi star qui a Elen Carvede servirebbe un video di un'ora. Però, vi basti sapere chiaramente che la carenza vitaminica ora, se è leggera, non si percepisce, ma alla lunga può portare degli squilibri. Ora, quello che consiglio io è, se voi mangiate frutta, verdura, eccetera, in abbondanza, assumete già abbastanza vitamine, anche se è vero che spesso negli ultimi anni ormai il nostro cibo, soprattutto frutta e verdura, essendo tutta roba di serra, è poco nutriente rispetto a quello di tanti anni fa, ok? Però comunque un minimo di vitamine e di minerali li contengono ancora. Chiaramente, se come me non amate la verdura, ne mangiate poca e la frutta non vi fa impazzire, magari un multivitaminico può essere una pastiglietta alla mattina e siete a posto, non dovete prenderne chissà quante, può essere una buona soluzione integrativa. Ora, questo è quanto per quanto riguarda le vitamine. I sali minerali, chiaramente anche quali avrete sentiti, anche questi, gli scompensi possono causarvi la morte perché sono presenti in reazioni tra cui il movimento muscolare, cioè per fare questa roba o per allenarvi in palestra o per muovere, voi utilizzate costantemente ogni secondo i sali minerali e in tantissime altre cose, lo sapete, dai denti alle ossa, la salute dei vari organi, eccetera. Ora, cosa vi serve sapere sui sali minerali? Anche qui la carenza più classica è quella di sodio, potassio, magnesio e quindi ci avete magari i crampi se vi allenate a lungo, se fate maratone, eccetera. Chiaramente la carenza o gli scompensi elettrolitici su sodio e potassio che riguardano il bilancio elettrolitrico, eccetera, vi possono causare a, per esempio, fallimento dei reni, non mi viene kidney failure, non mi viene in italiano come si dice e potete lasciarci le penne anche lì. Quindi state ben attenti perché, cioè no, state attenti no, nel senso sappiate che anche i sali minerali sono fondamentali per la vita. Ora, si dividono in due grandi categorie che sono i macro elementi e i micro e gli oligo elementi. Li avrete già sentiti, ora qui è una divisione semplicemente perché i macro elementi sono più presenti e ce n'è più bisogno a livello proprio di quantità, mentre i micro e gli oligo elementi sono meno presenti e ce n'è bisogno di meno. Comunque i macro elementi sono in realtà sei, ne ho dimenticato uno, il calcio, il magnesio, il fosforo, il sodio, il potassio e lo zolfo, mi sembra, e i micro e gli oligo elementi sono il cromo, il rame, lo zinco, il ferro e tutti gli altri micro elementi, poi nel libro ci sono tutti adesso, così a memoria non me li ricordo. Comunque ecco, è una questione puramente di quantità e di appunto funzioni che svolgono. Non c'è molto altro da dirvi, ora l'acqua, vabbè ho fatto un po' il pirlo, ho disegnato i mari e i laghi perché io essendo cresciuto in montagna bevo sempre dal fiume l'acqua, però essenzialmente l'acqua ragazzi, non c'è bisogno che vi spiego molto, siamo fatti al, l'avrete sentito un milione di volte no, 70% di acqua, c'è anche una canzone siamo fatti al 70% di acqua, non mi ricordo chi la cantava, quindi se il sole fosse al posto di giove, era rage, mi sembra si chiami addio quella canzone lì, comunque l'acqua ovviamente è fondamentale per la vita, nel senso che se siete idratati già all'1-2% perdete tantissima forza in palestra e se vi disidratate più del 5% crepate di sete, come solitamente succede. I sintomi della disidratazione sono il primo più semplice, labbra secche, se vi sentite le labbra secche vuol dire che siete già un pochino disidratati, il secondo sintomo è la sete, perché la sete viene quando siete già disidratati, quindi se bevete solo quando avete sete probabilmente non bevete abbastanza e comunque ecco l'acqua generalmente si consigliano un minimo di 2 litri al giorno, se fate sport, fate palestra eccetera, anche 3 litri al giorno vanno benissimo fino ad arrivare a 4, poi dipende se siete 1,98 per 140 kg magari potete bere anche 6 litri di acqua al giorno, però quelli sono un po' gli estremismi, diciamo che per stare in salute 2 litri sono il minimo per poi arrivare magari ai 3-4 se fate sport e se volete bere tanto. Ecco questo è un po' quanto, ora le fonti di queste 3 cose sono sempre quelle, nel senso che la frutta, la verdura, i cereali, i legumi eccetera contengono tutti in quantità variabili, chi più chi meno, alcune vitamine, alcuni sali minerali ed essenzialmente la frutta e la verdura sono fatte di acqua, ok? I cereali no, così come i legumi hanno solo una... i cereali quasi niente, i legumi hanno una parte piuttosto bassa di acqua, però diciamo che la frutta e la verdura contengono tutti e 3, ok? Motivo per cui in Regno Unito da tanti anni si consiglia 5 portion a day, cioè 5 porzioni di frutta o di verdura al giorno, ok? Se voi andate nei supermercati in Regno Unito, in tutti i supermercati ci sono le vaschettine da 120-150 grammi già fatte, con dentro frutta e verdura fresche tagliate, più o meno fresca a seconda della catena, e quindi ecco, insomma, li consigliano 5 porzioni di frutta e di verdura al giorno per avere l'apporto di vitamine e sali minerali necessario, perché non ho detto una cosa prima che mi viene in mente, le vitamine e i sali minerali che prendete da frutta e verdura sono molto più biodisponibili del multivitaminico, cioè in realtà i multivitaminici non li assorbite quasi per un cazzo, nel senso sì, servono perché contengono una quantità industriale di vitamine e minerali rispetto alla frutta e alla verdura, però il tasso di assorbimento alla fine più o meno è quello, quindi c'è nel senso, contengono tanto, assorbite poco, questo contengono poco ma assorbite tutto e quindi più o meno siamo lì. Quindi ecco, questo era un po' il video sui micronutrienti, magari farò un video sui nutrienti aggiuntivi, che io li chiamo così, che sono i fitonutrienti, quindi le fibre e gli antiossidanti, però quelle cose sono comunque contenute nei micro e nei macro elementi. Quindi niente, questo era un po' quanto, spero che questo video istruttivo vi sia comunque piaciuto. Ora, se vi state chiedendo cosa sono i disegni ve lo dico, perché so che tanti non hanno capito un cazzo. Questa è una mela, questa è una pera, questo è un broccolo, questo è il simbolo della Nike, no scherzo, è una banana disegnata molto male, questa mi sembra fosse una carota o un cetriolo, non mi ricordo cosa ho disegnato, questo è un pomodoro, questo credo siano delle mandorle, questo è un fiume, questo è un lago e questa è una bottiglia d'acqua, ok? Va bene, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram It's Emile Fitness e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!